eccoci qua buonasera buonasera a tutti stasera come potete vedere non abbiamo orto non sei orto giusto no no non è orto abbiamo Matteo detto Pe Pe ha dichiarato che facciamo sette vittorie quindi non lo so quello che succederà almeno cinque e andiamo di lo ritratto allora oh io piccherei subito questa lancia rapida del monastero questa è buona oppure no questa è ottima vado su questa mezza magina 3 puoi aggiungere la tua mano una carta pianura o una carta con valore di mano a pari di credito in questa ok i colori li abbiamo scelti direi ok andiamo con questo metto un segnalino più uno su un altro soldato per salire con i controlli questa è fortissima questa anche ne abbiamo gingue le mettiamo tutte allora questa qua io mi butterei il suo regretione perché quella mi arriva da sempre verso la fine poi se che la ritroviamo capito a fine bianca io andrei col soldato eccono un altro io andrei a prendere questa Allora questa per il fatto di prudezza non mi dispiace e se qualcuno la bersaglia comunque deve pagare due punti di vita quindi non è male. Guarda io queste c'erano due e andrei su questa perché è me che fa creare o due pedine, soldato, artefatto, oppure le creature che prendi, che controlli prendono più due più zero fino alla fine di nessuno quindi non ci penserei più tanto ma secondo me questa è la piccola ma non credo che ci sarà, questa mettiamo lo sai, non ci servirà, un comune per il volto, vabbè, grazie per gli auguri non dovevi. Tutte le creature che c'hai? Guarda ti vengo dietro, via, io la credo che non ci può tornare, io lo andrei su questa, non lo so. Ma te le creature mi hanno... No, no, qui non questa. Eh sì, andiamo con questa. È un costo 3 che alla fine va pure in late game, io direi subito su questa. Allora, questo che fa? Oh, che è questo? Protezione dal multicolore, di colore, magari non vado a mettere il tutto, secondo me non abbastare i guadagni un po' bevita, da un soldato, per esempio. Vado a faccio qui. Incluniamo qui qua, da qui prendiamo la non comune, venite qua, qui prendiamo questa, che là ci fa abbastanza di imprezzo, obbligato. Obbligato. Poi io andrei con questa, guarda, adesso, di entrare nel camera del tagliate, di buio un pochettino, stampare anche il battito. Si, però fai le stampa lì. Non c'è scritto tu, un avversario? Tu e un avversario. Io mi avvolterrei su questa. Eccolo. C'è in biblioteca. È di vendere il tipo scelto, mi aggiunta, eh? Le altre creature del tipo di controlli prendono più o più. Volare. Volare quasi tutto, tutta la vita, guarda che roba. Allora, di nuovo? Sì. Sì, sì, guarda che secondo me, beh, è il miglior mazzo che ho mai trattato. Caterina che vogliono le altre fatte nel cambio del tagliate del secondo loro, l'avanguardia non è la tende più il pizzerro, più la fine del tutto. Buona. Questa è maggiore, brava, brava. Chiesa con il secondo 2-1. No, abbiamo questa. Abbiamo questa. Abbiamo questa. Alessandro Gerardo. 2. Vai. Ok, ci siamo. Adesso è il momento di portare il nostro mazzo da 50 a 40. Allora, vabbè, come siamo? Sì. Allora, adesso la levo, un attimo. Allora, io qui toglierei questo. Allora, adesso lo toglierei. E tengo questo che fa, che è il soldato. Questa? Eh, ce nemmo tre. Questa che c'è? Un 1-1, un attacco improvviso. Sì, ok. Vai. Guarda questa. Allora, mi hanno detto che demogliano le tutte. Guarda, 5. Io questa la levo. Guarda, io farei così. Questa. Questa. Che c'ha doppio attacco. Però l'avevo pagato e dargli doppio attacco. Questa qua invece c'ha attacco improvviso. Non vado più attacco, al senso non intrigge due volte i danni. Però mi potenzia con l'altra. Mi potenzia con le creature. Quindi io tolgo questa. Tolgo una di queste e me ne prendo, lo so. Non tolgo una. La proviamo a 42? Certo. Certo. Ci proviamo. Proviamo questo abbinamento dei colori. Sto, 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 sto bianco. Sto bianco più nero e blu. Colori Power Ranger. Allora, vediamo. Sì, sì, sì. Troppo a uno ce l'abbiamo. Due stiamo fermi per adesso. Quindi andiamo direttamente bianco. Via. Vai. Oh, space boat. Ciao space boat. Vai. Facciamo così. Attacco. E ne gioco subito. E non sbagliamo, eh. Verde e blu. Allora, qua. Allora, lo farei così. Innanzitutto, attacco. Che mi pare una cosa giustissima. Che a me immaginare il casting sembra un po' paolo. Eh, insomma, quello che è mai aperitivo. Lì li metto su questo. Alla fine è un 2-3. Ma anche nei verdi c'è le rimozioni. C'è quelle con raggiungere. Con raggiungere. Dai. Molto indeciso. Eccola. Volare prudezza. Attenzione. Io vorrei fare così. Alla dichiarazione. Ok. Per me. Prendiamo un po' il trucco da favo. Ok. Buona. Allora, prendiamo una terra e spariamo una terra, però possiamo fuggialmente zendacare. Figgiamo, questa è una terra. Oppure prendiamo una cosa. Allora, prendiamo questa. Eh, però dai. No, no, giusto, giusto, come no? Eh sì, dai. Perché danno, lui ti porta a capire. Mi barra uno, mi ammazza questa. Vabbè, mi ammazza una gradura buona. Poi questa dal cimitero, l'attivo l'abilità, orando dopo se fosse. Ha una di queste che fa. Vabbè, ci ha ammazzato una gradura, mi dispiace. E quello ci ha contato parecchio. Il colore mazzo è bianco e rosso. Due danni, riprendiamo. Fanella. Oh, guarda un po' chi è arrivati qua. Allora, io cinque quasi che farei. Cinque danni a questa e due danni per la salute. E gli facciamo due danni pure. Vediamo un po' cosa dice. Bravo lui. Bravo lui, già fregato. Quindi gli attacco con questa e con questa. Lui non difenderà ovviamente. Un po' qua niente. Eh, vedete. Un po' qua niente. Eh, vedete. Un po' qua niente. Deve vedere quello... Un ganda graduro. Io da più o più uno, ok. Marca amadosca. Quella da Cia Gaudela è un po' di cazzo. Cia Gaudela è una bella rotura di balle. Però io non blocco. Cia Gaudela è un po' di cazzo. Ma abbiamo questa? Adesso vico questa. Cia. Soldato! Inneni, tu io rimango in 4, grafica di 4. E tu li attacca, ti difendi? No. E' un azzardo, il nostro è un azzardo Mattia avrei taccato solo quella 1-1 E poi tutto per topo Ok Mi sa che è vinta la prima Orto Allora faccio come dice Orto Bravo È orto perché è uno di quelli che vuole Quasi end, è meglio di pressione Esatto, blocca a te Bella partita Tutto il time bank Time bank, you found me time bank Dai ragazzo Dai questo te la lascia così Finché non finisce il tempo Eh però siamo peccato Un avversario veramente scrauto Questo non so se la leggevamo Questa cosa era Che tal vai? Voglio con questo Sta palesemente facendoci spazientire Andiamo, forza, andiamo verso la seconda Profetizza Allora Cioè è finita la partita Allora 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 Noi ci abbiamo drop 1 Non è male eh Giochi prima Secondo round non ce l'hai Terzo round c'hai questa Io proverei Io ci provo Fai come ti pare Io ci sarei a provare Subito E fai un tacco Via TACCA Bolla di Mishra Guarda Mariana guarda che l'attacca Attacca A me sta gustoso A calabra terra Che ho fatto? Ho guardato la prima carta E poi? Poi Mi sono fatto pescare la carta Ah il prossimo dungeon pesca la carta Male male Terra Ok Attacca Non si andrà mai a fare Vabbè Sì Mettemolo Eh come no che sai Ma metti Clicca soldato Ma è un soldato No ma che te ne frega Tu devi bombare soldati Ah pure per quelli dopo Certo Se te ne devi andare a detrarli altri Guardi lui questa Comunque questo pescato Un miliardo di carte Io attaccherei solo quel 2-2 1-2 lo lasciamo in difesa Allora Ma che si sono pescato Sì sì Non è un'altra cosa Ma che si è pescato Non è un altro 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 bello, 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 bello. Beh, io. Cioè, stai ad una livellide, come ne fai? Vai! Stai facendo un po' di forza. Vai! Vai! Adesso tocchiamo con tutti e due. Adesso ti spiego anche la mia, il mio dubbio, diciamo, nel senso che se lui continua a fare un giochetto che sta già prima, ti ha appiato sulle mani di fai. Gli da sempre il b1, b1. La porta sempre questa qua, capito? Guarda sopra che c'ha già una di sotterrare. Ecco che si comincia. Ora, quando ci andremo, vai! Quindi prendiamo diretta questa. Si, si. Vai! Guarda. Eh no, con le cose laggiù, con il rosso no. Ah no. Solo con questo. Ecco quel lato, quel lato che c'è, che ne frega sette mai. Mori pure la sua, ho capito? Dopo se tira fuori, non giocare di più sotto, non può dare nessuno. Ah, spero. No, non devi prendere, non devi prendere. No, no, non ti sforzano. No, ti sforzano facendo. Quello la porti a Emma. Non lo ha, non lo ha già, non lo permette in gioco. Ah, mi faccio il tipo di sotterrare. No, no. È buono, è buono. Luca! Oh, attenzione, attenzione, ci i colori. Ah, ti 1v2, ti 1v2, ok, va bene. Non ti interessa. Ah, non ti interessa. allora lui c'è solo fermo, 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 non mi sa che siamo io fai fai vai 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 fai scegliamo soldato volare quella che volare devi chiedere una gradazione che devi scegliere, non so capire niente, non so perché ah ok ecco il cartone io non ho più notizia di soldato ma è bene guardi mi sono io ma siamo due emozioni comunque, rosso iang o emozioni possiamo dire in questo momento già c'è piaciuto rosso iang il contrario però c'è piaciuto questa che fa l'anno oddio io andrei di molly cerchè già abbiamo un primo guarda le porte nella patria del terreno perfetto ok questa è la demo anche non c'è modo, non gnomemo praticamente non gnomemo però la demo la demo è questa questa è troppo questa è partita malissimo ragazzi eh partiamo senza troppo purtroppo però non ci piace giocare con meno di 6 carte cioè perlomeno a me non piace giocare con meno di 6 carte guarda capo ma che è sopra il sistema quando fai così il sistema come ti dico io è il sistema perlomeno a me non c'è più perché ci vedete concretamente giocate che quando dette ci ravi nel marco e automaticamente c'hai due carte la carta di merda che fa questo? la mia volta attacca e si vive con una carta versaio da un ciclidero e noi continuiamo a pescare terre e la giocherebbi? c'ha senso giocarla? si dai eh si perché andrò da stare di mano dopo per giocare quell'altro mazzetto soldati andiamo avanti automata attivo ovviamente per danni e poi e ce l'ho più un po' le palle sti tre danni oh che guadagna vita questo come fa? ma che raccato? guarda io ho qualche risultato però non li faccio adesso ma perché è vero? aspetta come vai? che fai? che vuoi? perchè non zio cato questa? pesa qui? che ti ha possesso la pelle facciamo 5 anni nooo ma che gli fai? a te gli faccio 2 danni a fine turno suo creo 2 soldati nooo ma ne basta uno per il mazzaglio per perché ma gioco solo torna solo quando lui dichiaro l'attacco io gioco inizio se voglio raggiungere per cambi sì sì vabbè ma a me sta bene eccolo nooo piaccia di spaccare l'attacco nooo ma niente niente facciamo così e allora non posso attaccare l'oretta aspetta l'ho aiuta aggressiva eh guarda ho giocato anche la pausa sì sì però ci fai un cazzo giocato la pausa mi so dare un attacca per sei uguali sede purtroppo c'era la forza di sto mazzo qui che siamo creati penso che sta sui costi 1 e costi 2 non ho visto mai poi siamo pieni e hai costo 1 e 2 penso che tra 1 e 2 ci avremo 10 creature 10 carte da 1 costo 1 e 2 eccola qua pesca la seconda carta vedi? ba bam questa diventa 4-4 e questa qua 3-1 quindi sono 7 danni eccola qua vediamo sul tacco 2 esiliare una carta che so andando con quella che posso recuperare è una creatura che faccio la 2 questa è questa esiliare, adesso 2 ria mmm che problema esiliare la buona di sotterrata è esiliare ok questa è una spiega penso le carte più brutte già viene tutte adesso io lo attacco per 2 no se lui te li attacca e te li prendi e gli ammazzano e gli faccio altri danni in ciccio costante se dopo me c'è una camera eccolo qua va bene va bene va bene non c'è altro scambio andiamo fino a pass 4 per me la turma cazzo mi ha rovinato tutto mi ha rovinato tutto mi ha rovinato tutto il maledetto è un'altra è un'altra è un'altra è un'altra di sotterrata di sotterrata nooo dai questa è la super sfighe non salendo significa pesca quella di 34 andiamo anche da 6 lo so Che c'è da dire? Lui già l'ha caduto da solo Se ci arriva Io vorrei anche rimettere in gioco questa Ci attacca e la seconda loco No, non ci ha ragionato No, è una droga E noi pesciamo un'altra terra 4, 5, 6 4, 5, 6 No, gli fa pesca due carti E' un 6, 6 Eh, ma qui si concede 8 E' prima sconfinta 8 Vai bene Ma è scherzo Ti notà? No, sei risultato Perché non ci ha ragionato in primi due E' un scandaglio E' rosso E' rosso Si parte in torperenza Questa è la produzione della cosa? Va a multicolore Ok, questo è il soldato che ci abbiamo E noi non l'abbiamo criticato prima o adesso Non so, probabilmente l'abbiamo tolto, che dici? Sì No, lì Guarda, io la cosa A sto punto La spada quella che va Gli ha fatto uno di due dati La giocherei eh Oh, questa ci piace Facciamo questo Questa può giocare con l'ampo eh Anche su Warhammer Sì Una sega E gioca Questa Questa è la prego La bella Si deve vedere sull'impiazione Vabbè, ovviamente adesso che attacca per danni inizi Ma c'hè un cazzo Nella Un'altra Questa 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 Sì Questa 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 Si Questa 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 la mia combina è stata cattiva questa è stata cattiva questa e tu difendi quello 2-3 mori sulla sua stavo volando un anno fa io eccola aia questa è male questa è male a me la terra c'è ok fai quello che ti fai vai 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 decidi quello che vuoi allora che attacco gira adesso quella che volo devi attaccare per forza a meno che non gli è da bonus non muovi di ciò di esco che è il punto di intender e basta del danno proverei a fare questo gioco qui andiamo avanti lo stricolato che bello non attacchi guarda che questo ricorda di che si va a fare le significhe e poi si è colucato tutte qui su solo più 1-p1 e più di gendano e più di 2 a giocare poi puoi riazzare il blocco e posa gretica andiamo a 4-4 a costo 3 a costo 3 vabbè questo non attacca è per forza dai stacco stacco io 2 io 2 hai chiamato del giro di prima ok con una gradura in via comunque le prime due partite due vittorie pazzesche terza partita sconfitta che se non ha pescatato solo terra e quarta partita si è impuzzata adesso stiamo un attimo sulla difensiva dobbiamo cercare di pescata qualche rimozione per le carte che ha preso questo che è abbastanza noiose mamma mia male male andiamo a un battuto soldati e anche meglio del nostro perchè sono tutti soldati qua ma noi siamo partiti al mio capo è una rosa è sicuro è sicuro la giornata è sicuro poi è una dichiarazione dell'1k allora blocca questa su quella sopra questa qua fu strike su quella sopra questa qua fu strike Questo qui su questa 2-2, ok, poi lo blocca questo qui sulla 3-3, ok, direi che c'è posta, ok, 3-3 bloccanti conferma, poi dai, questa qua la dai a questa, vai, vai, veloci! Nooo, porco diavolo, falla, 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 falla dubito quella dai, falla, falla, propria, non mi fa cosa, stai su rango suo, eh, che cazzo facciamo? No, no, che lasci così, devi creare difesa, ti ha ammazzato a 2, mi sembra di forza devi qua, ok, avanti, adesso vanta a cambiare, falla, blocchi 1 con quella, poi blocchi, 2-2 con la 2-3 Blocchi con la volante 2, la 7-6 su A, ok, la 2-3 blocchi la 2-2 su A, aspetta, va bene, blocca la 3-4 su A, 3-4 su A, ok, la 1-1 blocchi la 2-5, E la 1-1 blocchi la 2-2, ok, no, la 2-2 su A, aspetta, deseleziona veloce, fai, deseleziona questa, ah, questa qui blocca la 2-2 esatto, la 1-1 blocca la 3-4, e, ok, va bene, Puoi sparagliela, ah, no, ancora no, ok, fai il damno, passa il damno E al tempo spari questa sulla 3-3 che dà più una tizia C'ha dovuto prendere due volanti, tu Ah, non pensa Eh, quello chiamo una volante Ok, ok, non ho bisogno di andare Eh, il motocadro è lì Non c'è troppo lento Ah, congeri, congeri Male, male, ragazzi Male, male Troppo lento 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 Allora, io ti do un secondo, non ho controllato il mazzo Perché quella spada, non mi spiace, il 2-0 Guarda, io le ho questa Guarda, io cosa che ti dico? Non è perché ti dico? Le ho questa, no, scusa, no, le ho questa Le ho questa qui e lascio questa Dai Grazie Ho fatto pure una buona sostituzione, secondo me Hio, per favore Abbiamo fatto un buon change, hai capito? Io pleziti Pongh, abbiamo il drop a 1, drop a 2 Potenziamento Sparo Guarda, questa è una mano quasi imperfetta, secondo me No dai, io lo mento Adocco il narrative me, quando controllo i droppi artefatti ogni volta un artefatto nel campo di battaglia sotto controllo guadagni un punto vita se è la prima volta che questa abilità sia risolta in questo turno metti un segnale, no? bella cosa vabbè ma io ti attacco subito ok adesso io due danni io potenzialmente due danni prendo e ha un po' anche Prada che può costare una di carte buona questa qua? cucciola di urba? eh però riportiamo che questo signore qui ha toppato uno shieldred l'ha dichiarato una carta in maglie lo freggio pure con il giro bella mettila anche la curva? no, c'è la rambo al massimo interesse se lui richiara che attacca solo con questa per dire che la mette sotto per distruggere basta assieme al tuo remorio porca male, questo è un artefatto basta 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 allora io faccio questo attacco con questa fino a mezzo io faccio un danno onesto un danno onesto un danno onesto e poi dopo niente poi dopo non è vero che se mi attacco con questa e mi dopo strike non è vero anche questo 2 e questa diventa 5 2 diventa? 5-10 ok, non saprei di capire che c'è tra l'altro no, c'è anche il blu male, male sta via da blu ah ah è un cazzo del blu nel tambo albubatico ok spero è una colina suddata se no sono in colore ok allora andiamo a dichiarazione attaccanti eh ma modifaccia la sorpresa ho già b1 più 1 da dove? da dove? eh ciao alb3b3 con questo qui capisco perchè con la carriera alb3 perchè c'ha probabilmente quella carta ah, la potenzia dimostri quella pure che fa 5 anni è uguale no, te la faccio dopo adesso piuttosto che... eh, eh certo ah, anche questa c'è la protenza io bloccavo tutti e due vaffanpuro eh, vabbè questo non mi sguido vabbè, sembra un cavolo più duro e l'ho ammazzato adesso vabbè, ci stiamo ci stiamo adesso dovremo crearci la difesa e fonderemo aiutubalciacopista sui volanti c'è una ariatura che non distrugge parte e parte si sa già di svolterrare qua ecco lì ecco lì ecco lì ecco un gemo ok perchè? a parte posso metterla pure nel palo che fa? ma io che te li prendi guarda che bello che sfida oh oh eh questa qua ci viene una manna da cialo istantaneo che avevano due soldati questa se vaffa diventa un 3-3 equipaggio soldato con quella che rimane ok direi da andare avanti nessuno 3-3-2-3 so pure lo associato poi se lo abbiamo mondo vivo che non terrano un basico ma che è? 4-6 ma guarda buoni quali eh non attaccato questo cazzo attacchi adesso vedete no? ok adesso lo ammazziamo adesso lo partiamo di sotterrare no 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 n n non è 10 no 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 non attacco ovviamente 2-2 2 2 2 2 2 oh attenzione eh attenzione perché è una merda totale guarda devo giocarla per forza questa è una poca scelta nessun attaccante termina mamma mia come la vedo brutta la sorveglia 1 ok bella questa cosa che da sorveglia a tutti che cosa ho detto io guarda da prima le prime carte sui romani poi metti in qualsiasi nome eh nel 12 miliardi le altre non ci ne mancai desilia un braffettaccio un braffettaccio un braffettaccio un braffettaccio eh eh che hai detto? eh c'è un braffettaccio eh eh stiamo andando no tutti lo stesso mi ha bloccato? si porco due vaffanculo una per qua stava beh questa doveva stare qua capito? non mi doveva passare sei danni porco due mi hanno estatera pure tre quattro cinque e sei questa doveva fare lo stesso questa cosa lì quindi anzi ci voglio che lo faccio pure una altra volta tre quattro cinque sei ci voglio che sacrifico pure questa no perchè sennò mi muore pure la mia perchè così muore solo la sua madre per forse mi muore questa cosa no in duria no questa non duri muore solo la sua madre eh si però se bloccavo il lano mi passava sei danni eccola eccola errà errà non mi è mancata che cazzo cambiava perché non ero subito sei danni non è che mi cambiava niente stava qui adesso lo attaccavo mi va a fare pure una altra volta porco due due sono meglio dai l'altro cielo se lo facciamo dai un altro gioco ah un altro gioco qui lo però è scattato vedi bello bello non l'attacca eh mi è male si ha cercato lui quella carta per chiudere la partita non può attaccare bloccare le abilità attivate ciao viva 4 6 7 9 danni 5 6 8 8 8 10 9 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 32 31 31 32 32 32 33 33 33 33 33 33 Suo run mio non è che mi riesco a... Mi sa che la troala! Quella che tu non la fai! Mi sa che la troala! No, che abbiamo una terra? Che cazzo c'è stata una terra? C'è stata una terra che c'è con questa? 3, 5, 6, 7, 8... 2, 4, 6, 8... La terra c'è un'altra! Allora, io un grande... Facciamo più... Facciamo più... E' un po' di più... Davolo! Capito! Ma... Eh, le mie volte attaccare... Cioè, se le attaccare... E' un po' di più gioco... Ma se quando mi difende con quella... Eh, certo! Però quando si difende con questa... Quando che io... Sono meglio su, diciamo... Oppure se mi attacchassi con tutte... No! Se mi attacassi con tutte... Io gli vado a difendere! Un po' di più gioco... E' una carta... Tipo... Le ingatisimo il cie a lui! Non posso attaccare un po' di più... E' un po' di più gioco... E' un po' di più gioco... E' un po' di più gioco... guarda che merda però attenzione perché se gli dovessi intenderle che non gli piace, dappa tutto poi dopo lo attacchiamo con tutti dai 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 quindi se lo pesciamo prima oh attenzione ferma tutto questo ci piace questo ci piace no però se quello gli piace più di uno perché dentro un'altra parte no meno me per un'altra parte non ho mai visto ah no con una grande mele di più visto potenza attenzione attenzione attaccò tutto e cosa allora che cazzo sei tu perchè lui adesso deve rispondere per forza capito ho due time allora attacco 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 e attacco metti 5 7 8 9 10 12 13 danni lui deve difendere per forza 14 16 allora io attacco con questa attacco con questa e basta inserci se non si se dipende da doppio però io ammazzo che gradiune questo pensato si dipende solo con una per non farla l'ammazzare no io subito questa è la cosa ho bisogno di farla muri adesso secondo me non hai sbagliato mi dici che se lo ammazza ci provo mi dici che si 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 allora aspetta due tre scendere mettiamo prima questa un po' ok ok perfetto quando non posso attivare questa ok tre 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 scendere e devo distruggere l'artefatto guarda con queste che vuoi fare se distruggo questa faccio 5 4 se distruggo questa e faccio aspetta ti avvicina qua adesso quasi c'è veia attivo avvità salitica questa non so però io ti chiedevo in mezzo due creature non mi muore pure mi muore pure ma dai mu sul patto va bene ci ci st 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 c una tre attenzione eh finale al cardiopalma non può essere lockata metti due segnalini b1 b1 sulla colletta costa 7 2 4 6 però sto round che sarebbe niente da metterli infatti li mette giustamente va bene vediamo con quante persone attacca secondo me non ha dato perché non è sicuro che vince io gli faccio pescare una carta e me la pesco pure io poi ci vediamo quella carta all'erido e ci riferiamo una carta da pesca beh dopo sperando che non ci arrivi in altra perra con le carte già lì ha 13 carte potenzialmente 12 carte questa è la best ok che stava innanzitutto questa no no meglio che c'era inizialmente vai con 3 2 inizialmente Limpaggiamo In seguità, limpaggiamo Tu mi mette qua due Così faci due, quattro e il bel barzano Hai ragione Però così ti significa tornare una cosa? Vabbè Non fa niente, nessun attaccante Perfetto Adesso lui farà la scrive Limpaggiamo Ma questo li metto in segnalino Devo pagare a sette e mettere i cosi Io faccio un'andrata su Io metto qui perchè è una portatoria Lo so che faccio giocare anche a lui però Non lo portiamo anche a finire le carte Ok sorveglia Io ti auguro di non trovare nulla che ti piace Qui c'è almeno scarti un'altra carta Quando sarà unici? Tantissime undici materni Noi vediamo una terra Va bene dai andiamo a fare Ok Guarda eh Facciamo un'azienda Vai Io vi direi questa Vai Ok Ok Poi Combattimento andiamo Nooo Mi ha lavorato il time out Vaffanculo Allora Farei così Farei Allora No Allora Non darmi a nulla perchè il vivaggio che stanno qua Pago Mi costa 1, 3, 4, 5 Ah cazzo Allora O il vivaggio Oppure Oppure mi vengo giungo aperti per darvi uno più una tutta l'ora No io vi faccio Termina di urlo Nooo Oh Una creatura per taglio che controlli prende più uno più due E' l'otta Vabbè dai E' un genio Guarda che se c'è sbagliato fatta la nostra sapone che Che c'è da Un bavolo Un trabordo Un bavolo Ok Ma poi le faccio quello che tu E' il meglio da quello Passo al Nello can Ok No Zitti No No C'è caudela C'è caudela Porca madondru Vai Corca madondru C'è caudela E che ci pensavate che c'è caudela Ma se andai subito con Bimbo e questa è qui facciamo fuori una creatura ma non ci ho prenduto ma lui attenzione vedi 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 ades beh va vai da quella regaliamo questa emozione guarda la terra ci siamo leate di c***ie dai io lo leo di c***e su guarda la terra che c'ha! e arriva a 10 deve avviare la cosa li dai sii li no Ah no! E' a mo? Eh, io so vedere io una maniera di riposo, direi io. Ah, via, subito, non verso il calma, tanto qua. No, eh. Il mare. Vai andando. Tre danni, ok. No, facciamo così, adesso. Però... Se peschiamo una carta adesso non potremmo difendere una creatura? Eh no, no, quella la dovremmo dopo che l'ha ingressata la difesa, oppure se c'è la Versailles, in risposta la da appena. Minerando, calerai io. Calerai io quelle, sicuro. Mmm, perfetta capa. Non ce l'ho avuta l'ora. Però a questo punto... A questo punto... Passa, che chiarizionate di Locarni. E la cosa guzza però, Cucino. Perché guzza? Perché so già che cosa che... Tipo che è una rimozione. Perché guarda, 8 e 3 11. Se tu ne fai passa una, può essere da travolgere a questa. Allora io faccio più di Locke. Questa, questa. E questa, questa. No. Quando devo fare tutto ordonato... Perché? E questa c'è pure una cosa che fai gli pescati per le altre carte. Ma che c'è le altre carte? No, quando questo dobbiamo chiudere la partita. E' vero. E' vero. E' la mia cosa, cioè. E' la mia cosa, cioè. E' la mia cosa. E' la mia cosa. E' la mia cosa. Però che fai, no? Però difendi pure con quell'altro, no? Quanto devo assi trappondi per il carcato, no? Eh, però così si trovo un po' di 2. No, dai, su. No, no, no. Sì, da che trovo? Sì, da che trovo? Io so, te, sicuramente la... No, intanto. Questa? Ok. No, intanto. M bar guardate me, dum tic GiantDefhu V6 milks Non ma il problema della partita è vero. No! Voilà, le parola, le parola, le parola con due. parola con due! Parola con due. E' questa per forza Così facciamo un soldato più uno Proviamo un sacrificio a questa Ma non è un soldato Attacco quella No però attaccaccia Anche se No questi non li attaccaccia Fatta una cazzata No, ho sbagliato Ho sbagliato prima Dovevo bloccar con questa, sacrificarla Tanto moria lo stesso una creatura sua E io mi tenia quell'altra che in caso Potevo pescare un'altra carta Eccola Non ce lo sappiamo di quella passamossa Alla fine non cambia niente No alla fine non cambia niente Una partita che si chiude con questo round e chiuso quello dopo Una partita infinita tra l'altro Che c'hai? Perchè non riesco la rocca? Con questa o no con questa Con questa no con questa Con questa no con questa No non posso bloccarla Però posso bloccarla con questa Perchè non lo so? Perchè non lo so? Perchè non lo so Perchè non lo so? Perchè non lo so? Perchè non lo so? Quattro, cinque, sei, sette danni Quattro, cinque, sei, sette danni qui ci ne fa Prende 2-1-0 fino alla fine del turno Non mi interessa Lo so bloccato Si aggrifica, questa che fa? Un mio cuore d'attacco Se non vuoi attacco Faccio piedere il potere No, per me è così No, per me è così E che fai? Cioè sei così matto? Cioè non vuoi essere No, non vuoi essere Ma è impossibile Sei così matto, sì È matto 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 E andiamo Una vittoria che non ci dovesse mai stato Vai direi Non facciamo la cazzata del prima pass Bulli game Ed è? E beh, direi eh E così ci guida Non ci ingangi, no No Vediamo questa Ehm, quale voleva? Non so Con questa Oppure No Sì, ma è più il rivero Ehm... Ehm... Sì, ma è più Ehm... 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 È me vestiti Ehm... Ok... se c'è attaccato a questa io ero più ammazzata beh è più ammazzata da potere tu viesci da anni, tu viesci però che ti ha sembrato brutto anche se ti hanno avuto tutti i due gli passavano questo mi dispiace è piacere con la casa bello è un destino il gratto allora 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 oppure no c'è yoga play sa questa è una parte fatta non attacchi mi stanno attaccando e poi se ti attacca gliela spy sicuramente dovrebbero pagare rabbia ma non si reagisce un cazzo mi piace danni non è una parte fatta non è una parte fatta non è una parte fatta è una parte fatta non è una parte fatta ok esatto ecco i baggi sono 2 euro 5 euro 5 euro e vieni con tutto un danno e per cui un danno non lo fai ma io fai che c'è una grade euro se paga 5 paga 4 ok da un po' difende allora 1-0 no 2-0 si vieni una partita questa si 5 allora creatura o artefatto creatura questa aiutava ma che se le frega per questo questo tempo devi pagarla questa devi pagarla comunque ok poi attaccare con tutto questo devo bloccare devo bloccarle tutte e due però non muore la 2 e se blocca questa altra che fa più danni a sua morte che stai 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 non attaccarai inforibici non attaccare quello che fa esso e non c'è la mogna? no, la dobbia, c'è un po' di lavoro dopo in caso oppure te fai tu bevi ne do, vedi un attimo quello che fa esso no devi fare artefatto, quello non è artefatto come stai andando? no, ti ricordo ah, le creature, le creature, ok mi hanno lo stesso un 4-2 dici perché bocca di bocca di bocca dai ma tanto dice morire è uguale mi hanno lo stesso, mi hanno lo stesso ma è proprio un po' di bocca basta, ti ricordo di un attaccante tocca questo allora, se vuoi voglio pescare la carta riesco bellissimo non perde il bandoino ah, era questo ah, era questo pesca pulissimo però, vabbè, non è buono ma invece non è buc'è non è buonissimo noo che è successo? ha pescato la seconda carta mette il 2-1-1 ah, sono malissimo staggart ok allora gioca al doma questa Questa. Sì. Però questa è lo rosso! Porco te, no nulla, nulla, gioco nulla. Porco dinna. Vabbè, come si è fatto? È nullato, per forza. Il yoga solo rosso, qui c'è almeno, quindi yoga pure questa, tra i cambiare l'equipaggiamento che do. Eh, ma, yoga, quella che ho attaccato, non mi sembra fatto, tanto mai cambia i cambiare l'equipaggiamento che do. Eh, passa. Comunque, questa è l'uncolare. Ok, guarda, 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 guarda. Ok. Guarda, guarda, guarda. Patti uno Patti due di venti 25 Ah, più in casa Guarda come si traccia Patti, ruba la Ah, c'è stronti Ok, niente Non mi vi piace Dicidia Porca madosca, centro demo Facciamoci Una madonna e fra Lo becchio Dai gatto Siamo troppo neri a pensare 3 2 3 5 7 5 6 Viu Di 5 Sì, sì. Lui? Ah, a parte tu, voi due. Il mio torno. E gli ho detto che gli aiuta pesca una carta. Ciao, un attimo. Questo è Yoko. Sì. Va bene. Ok. Ciao. Allora. Beh, qui va bene? Vengo in questo video? Allora, un attimo. Allora, un attimo. Allora. Fai un attimo. Vengo in questa parte. Allora. Allora. mi passa sei, due, quattro, sei mi faccio dei precisi ma io con l'Adi è in modo io con l'Adi eccolo qua ahhh quando stai? 4-2 4-2 Rapa 1, Rapa 2, che ne appassi se non ci vai il R famoso c'è giudizio il Rapa 2 il Rapa 2 il Rapa 2 il Rapa 2 è un lavoro questo Accidenti ma domani è un paligioso in questo No Questo è davvero molto suolto non è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.